Allora, la prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia. E che cos'è la malattia? Cioè, non sai che cos'è la malattia. La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda e tu puoi restare a casa tranquillamente a mangiare e a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale è che devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attenti, sia la mattina e il pomeriggio che se viene il medico e non vi trovi, vi licenzi. Ok? Ok! Ma si può fare? Si può fare, basta che tieni il certificato medico e si può fare. Ok? Ok! Ok! E chi ci controlla? Ma oggi, il medico. Controlla, viene a casa, bussa, tata, apri, uè, uomir, tutto a posto. Se invece il medico viene e non ti trova, ah, 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 licenziato. Penso che è chiaro, no? Ok? Ok! Ok! E chi lo fa il certificato? Ma, l'ho detto ora, tengo pure i testimoni, l'ho detto ora, lo fa il certificato, lo fa il medico, l'ho detto a... Grazie!